chiediamo scusa anche alla fila federazione italiana lampadani cioè non lo so non stop una palla non può salire la scuola non ha preso una pulizione non ha fatto una scuola non di riporto ed è arrivato una palla bella a mezza sticcata ma no scusate all'inizio l'ha fatto il colpe d'essere quindi una pia di perugia ha fatto colpe d'essere mi sa vanno in fallo laterale non se la prendessi non sapi che la proprietà non sapi che ha il suo direttore non sapi che ha il suo giocatore non sapi che ha spiccio ma io vorrei che i nostri opinionisti principe che parlano per televisione che dicono che i tifosi si parlano con l'emotività vorrei che qualcuno mi spiegasse nelle trasmissioni prossime come che giudizio danno ad una squadra che con un uomo in più per 45 40 minuti non riesce a fare un tiro verso la porta avversaria allora è stato massimo a me quando qualcuno dice che noi parliamo di pallone mentre loro parlano di calcio io mi permetto di dire che loro calcio non sapono manca d'orsi di casa a buco